Uno spettacolo semplice per farsi gli auguri di Natale con un coro, una band, con tutte le persone non professioniste che per una sera tramite luci, suoni, colori e voci vorrebbero sentirsi professioniste. Alleluia! Alleluia! Dopo l'ultimo appuntamento del 2019 nella parrocchia di Pratantico è tornato l'evento cantando il Natale. Una serata bella per tutti, per tutto il paese c'è la voglia di stare insieme è un percorso che abbiamo fatto in questi mesi che ci hanno portato al Natale è un modo un po' per farci gli auguri tutti persone non professioniste, rigorosamente non professionisti che per una sera si vogliono sentire professionisti e abbiamo fatto questa cosa un po' con luci, suoni simpatica per tutti che ricorda un po' l'atmosfera natalizia. Protagonisti della serata il coro Senza Frontiere composto da ragazzi e adulti della frazione alle porte di Arezzo assieme a giovani provenienti da altri paesi accompagnati dalla San Giovanni Band. I musicisti più o meno sono sempre quelli sono il coro più o meno è sempre quello quello che cambiano sono i bambini perché chiaramente ogni anno diventano grandi e quindi magari abbandonano il coro perché hanno anche altri interessi. I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas abbiamo scelto vari pezzi sia della tradizione diciamo natalizia sia pezzi di musica leggera che spaziano un po' pezzi italiani, pezzi internazionali abbiamo cercato di fare un po' un excursus nel panorama musicale tutti i pezzi ovviamente che riguardano il Natale il mezzo dell'amore il suo cammino sapevo meraviglioso blu di tutto il sé grazie a tutti